Buongiorno e buon lunedì a tutti. La settimana sulla nostra penisola inizia con la presenza di un vortice depressionario incluso in una profonda saccatura che discende quasi perpendicolarmente sull'Italia a partire dalle regioni polari. Come conseguenza sull'Abruzzo il cielo rimarrà coperto, con precipitazioni intermittenti che saranno a carattere nevoso al di sopra dei 100-200 m sui comparti centrali e settentrionali e al di sopra dei 300-400 m nelle aree più a sud della regione. I fenomeni saranno più consistenti sul versante adriatico. I venti spireranno da nord e nord-est con intensità da moderata a forte, rendendo il mar adriatico molto mosso. Infine le temperature sono in lieve diminuzione con massime comprese tra 0 e 5 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani è atteso un temporaneo miglioramento nel pomeriggio soprattutto nel comparto centro-meridionale della regione, ma in serata e nella notte giungeranno nuovi rovesci con nevicate a quota collinare che ci accompagneranno anche per tutta la successiva giornata di mercoledì. Le temperature permangono stazionare su valori tipicamente invernali con ventilazione da nord-est sempre di forte intensità. Per il momento con il meteo ho concluso, io vi ringrazio per l'attenzione.